Musica Bentrovati ad ora a TG, la cronaca in apertura, blitz antidrogga nel Lione San Crisoforo a Cattania, cuore dello spaccio nel capoluogo Etneo. L'operazione dei carabinieri ha portato a 29 arresti, oltre 100 le perquisizioni. Sentiamo. Importante operazione antidroga a Catania condotta dai carabinieri, che hanno inferto un duro colpo ad una roccaforte dello spaccio Etneo. Il traffico faceva capo ad un gruppo santapaoliano di cui è capo il latitante Andrea Nizza. L'operazione denominata Polaris è scattata stamattina all'alba, con oltre 200 carabinieri impiegati per eseguire l'ordinanza cautelare messa dalla GIP di Catania nei confronti di 29 persone. Oltre 100 le perquisizioni eseguite, al termine di indagini durate 5 mesi. La piazza di spaccio nel popolare quartiere di San Cristoforo era localizzata nello specifico in via Stella Polare, con ruoli e turni ben definiti tra vedette e pusher. I provvedimenti restrittivi hanno interessato 29 persone, 5 di questi già detenuti. È una piazza di spaccio tra le più importanti di Catania, nel popolare quartiere di San Cristoforo, che è controllata dalla famiglia Nizza. Quindi dal gruppo che disponeva di maggiori risorse economiche e altro tipo di risorse, nell'ambito del clan Santa Paola Ercolano. Per rendere più veloce, perché era una piazza molto affollata, per rendere più veloce l'attività, non avere soluzione di continuità, alla pusher il prodotto, l'involucro veniva fornita attraverso il lancio dal balcone. 5 mesi molto serrati, perché hanno portato oltre agli arresti di questi 29 indagati di questa notte, anche l'arresto ad altri 17 soggetti responsabili dello spaccio e l'identificazione, quindi la segnalazione dal prefetto, di oltre 60 assuntori. La strada era molto stretta, è una quartiera ad altissima densità criminale, quindi chiaramente c'erano delle vedette, c'erano dei soggetti che indirizzavano gli acquirenti verso i spacciatori e c'è chi forniva la sua vecchia. C'era anche un tariffario, uno stipendio per ciascuno di questi incarichi e nello specifico una vedetta guadagna circa 70 euro al turno e lo spacciatore 200 euro. Quindi l'ingente volume di affari che produceva questa attività di spaccio serviva a pagare questi stipendi, ma anche a sostenere le famiglie dei detenuti e degli affiliati. E cambiamo decisamente argomento, ci trasferiamo ad Acireale per parlare di tasse e di alleggerimenti, riduzione del 3% dell'Imu per teatri, cinema e sale, concerti. La misura è già stata adottata dall'Aggiunta Barbagallo. Sentiamo Salvo Cutuli. La terza commissione urbanistica con un atto di indirizzo ha proposto la riduzione dell'Imu per cinema, teatri, sale, concerti. L'Aggiunta ha deliberato a tempo di record la riduzione della tassa abbassata dal 3%, ovvero l'intera quota aspettante al Comune. Si passa dall'1,60 allo 0,76, quest'ultima percentuale di competenze contabili dello Stato, e non soggetta a modifiche da parte degli enti periferici. A beneficiare della riduzione saranno tutti gli immobili classificati B3, due ai teatri cittadini che godranno della riduzione altrettanti cinema, da quantificare le sale concerto e gli spazi adibiti a pubblici spettacoli presenti in città. Un gesto di buona volontà politica per favorire la proposta culturale del Cereale Cittadina, storicamente legata ad eventi di spessore che potrebbe vivere di turismi e cultura, su cui si sta cercando di investire per rilanciare settori considerati primari nell'economia cittadina e per questo motivo tenuti nella giusta considerazione politica. La proposta avanzata dal consigliere comunale Salvo Seminale è stata discussa in commissione urbanistica e girata alla Giunta che l'ha approvata nei giorni scorsi. Un segnale di incoraggiamento verso coloro che producono eventi culturali in città e quanti fossero interessati eventualmente ad investire. L'iniziativa ha preso spunto da analoghi provvedimenti adottati in altri comuni italiani dove la cultura rappresenta un valore giunto da valorizzare e incoraggiare. Diciamo che la mia commissione, la terza urbanistica, su mia proposta ha ben condiviso il fatto di voler ridurre, specialmente per le attività culturali e per chi vuole investire nell'offerta culturale che è molto sentita da questa amministrazione, quindi di ridurre quella che è la parte quota in percentuale sul limu presente in città, abbassando dal 10,60 al 7,60%, quindi il 3% in meno di quanto dovuto proprio per chi vuole investire nell'offerta culturale. Reputiamo l'offerta culturale prioritaria rispetto a quelle che sono anche altre priorità, ma questa in forma consistente e concreta, questo atto dà la dimostrazione di quanto ci si tenga realmente in città affinché sempre più si possa fare per le tematiche che attengono proprio la cultura. Adesso a Giarre il servizio rifiuti sarà presto affidato alla Dasti, il Tarra ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla ditta TEC, superato l'impasse, adesso si attende il ritorno alla normalità. Sentiamo i dettagli. Forse si avvia a normalizzazione e a Giarre la vicenda dell'affidamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani ad una ditta che possa operare e programmare anche in tempi lunghi. Questa possibilità nasce dalla sentenza di rigetto emessa dal Tarra della richiesta di sospensiva per l'affidamento del servizio alla Dasti. Questa sentenza è il primo passo verso questa normalizzazione, mentre l'intera vicenda potrà essere chiarita quando il Tribunale entrerà nel merito del ricorso. Frattanto, e questa è la vera novità, il Comune può operare affidando l'incarico alla Dasti contro cui avevano ricorso a suo tempo sia la TEC che la CICLAT che avevano partecipato anch'esse alla gara d'appalto. Gli amministratori, per bocca del vice sindaco, tirano un momentaneo sospiro di sollievo perché la città ha realmente bisogno di tanta normalizzazione e quella della raccolta dei rifiuti solidi urbani è forse la più importante. Adesso il Comune può operare. Cosa pensate di fare? Pensiamo di procedere, prendiamo atto della decisione del Tarra. Tra l'altro, precedentemente non aveva accettato la richiesta di sospensiva avanzata dalla TEC che quindi nel merito ha rigettato il ricorso. Allora noi abbiamo l'obbligo di procedere ad assegnare i lavori alla ditta giudicataria. Uno dei punti, diciamo nel momento negativo, è la mancanza dell'isola ecologica. C'è qualche indirizzo per l'individuazione? E' già stata inserita addirittura nel nuovo appalto, quindi la realizzazione dell'isola ecologica. La cosa è propedeutica a tutta la raccolta differenziata che dovrà essere attivata. E da Cireale, invece, il Consiglio Comunale ha dato il via libera al nuovo PTO, il piano triennale delle opere pubbliche, senza i soliti ritardi. Ci sono tra gli interventi anche la messa in sicurezza del torrente Lavinaio e un'area a verde con area di sosta annessa in via Salvatore Vigo. Sentiamo. Il piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta con largo anticipo rispetto al passato permetterà una programmazione organizzata delle priorità cittadine con opere considerate di primaria importanza, come la messa in sicurezza del torrente Lavinaio e Platani, il teatro Manugeli, lo spazio a verde con area di sosta su via Salvatore Vigo. I progetti inseriti nel triennale dello scorso anno è già finanziati e cantierati. Velocizzare l'itere di approvazione del piano triennale delle opere pubbliche ha permesso all'amministrazione di giocare di anticipo sul via libera allo strumento di programmazione finanziaria dell'ente che, almeno di intoppio dell'ultima ora, potrebbe essere esitato dal Consiglio Comunale prima del nuovo anno, consentendo così una gestione della spesa e degli impegni ad esse collegati più omogenea rispetto alle esigenze di una città di quasi 60.000 abitanti e delle sue priorità, prima fra tutte la programmazione del rilancio economico che, tradotto in numeri concreti, significa maggiori opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, percorso tortuoso, quello contabile e non privo di ostacoli che l'amministrazione Barbagallo intende superare senza scossoni. Nanda Ardita è l'assessore ai lavori pubblici. Noi per la prima volta, è una scelta epocale, siamo riusciti, abbiamo voluto fortemente fare il piano triennale nei tempi giusti quando occorre fare un piano triennale. E aggiungo, è propedeutico a un'altra scelta incredibilmente importante, ossia quella dell'approvazione del bilancio. Per la prima volta noi siamo nei tempi corretti per dare alla città, ai consiglieri comunali in particolare, uno strumento che serva per una programmazione certa e sicura. Questo è quello che deve passare come messaggio. Ancora danni in provincia. A Sant'Alfio, per il maltempo di forte vento, crolla un impianto di illuminazione artistica nella zona del Castagno dei Cento Cavalli. Era un'opera realizzata dall'ex provincia. Meloni Codemo. Il piccolo centro collinare di Sant'Alfio, piacevole paesino in provincia di Catania, ha nel suo territorio uno spettacolo della natura, il famosissimo Castagno dei Cento Cavalli. Per questo che a suo tempo, sotto l'amministrazione del sindaco Fichera, l'amministrazione provinciale realizzò una presunta artistica illuminazione nella strada provinciale che porta verso il Castagno e si ricollega alla lingua glossa milo-zafferana. Il progetto previde e realizzò questo impianto con dei pali in legno che nelle intenzioni non stidessero con l'ambiente, dimenticando però, tra le altre cose, che se fatte opere avevano bisogno di continua manutenzione, essendo il legno dei pali soggetto alle intemperi e quindi facilmente deteriorabile. La riprova viene dai pali rotti e depositati nei pressi delle basi che li contenevano. Adesso a chi tocca intervenire? All'ex provincia o già area metropolitana? Al comune? A chi altri? Ci piacerebbe che l'amministrazione attuale sollecitasse sia la sostituzione che una approfondita manutenzione, altrimenti al prossimo vento qualche altro palo cadrà. E a quanto poi la pulizia nel paese degli accumuli di foglie o altro materiale prodotto dal vento in questi giorni? E adesso scuola al lavoro, nuove opportunità per gli studenti del liceo Archimede di Gattania grazie ad un ponte culturale con il Giappone. Francesco Larosa. Un accordo che prevede la formazione per il colpo docente e gli studenti sulle tecnologie attualmente esistenti sul mercato delle pompe di calore, pannelli solari, caldaie e condensazione e sistemi ibridi. È il frutto di un protocollo di intesa firmato tra l'Istituto Tecnico Archimede di Catania e il Colosso Daikin. Importante l'obiettivo che può garantire anche sbocchi occupazionali per il futuro degli studenti. L'Istituto offre infatti in tal modo un'offerta formativa, utile a rendere più qualificato l'ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo relazioni con questa scuola già da diversi anni e andavano molto bene. Abbiamo deciso di aumentare il contributo e i nostri obiettivi sono ovviamente insegnare agli studenti i punti fondamentali di queste tecnologie, sia per la climatizzazione, quindi il raffrescamento principalmente, ma anche per il riscaldamento. Stamattina l'accordo è stato siglato nella gremita o la magna dello stesso Istituto Archimede. I ragazzi avranno la possibilità, soprattutto i ragazzi dell'articolazione di energia, perché parliamo di formazione nel campo della termoidraulica, avranno la possibilità di seguire gratuitamente dei corsi con formatori specializzati nel campo. Questo significa che finalmente la scuola si apre al mondo del lavoro. In questo modo proviamo a curvare il curriculum e a dare ai ragazzi la possibilità, ma anche ai docenti, perché i corsi possono essere seguiti pure dai docenti, di confrontarsi con le proprie conoscenze e abilità e svilupparle sul campo. Quindi questa iniziativa mira anche a dare uno sbocco occupazionale in prospettiva? Assolutamente sì, l'obiettivo è proprio questo. L'alternanza scuola-lavoro nasce in Italia dalla valutazione del tasso di disoccupazione giovanile rispetto a tutti gli altri paesi degli stati membri. E a Catania è ancora tempo di Sposi in Love, l'evento Glamour per il matrimonio ha aperto i battenti ieri al centro Ulisse e sarà visitabile fino a domenica. Sabato sera la Notte Bianca dedicata alle nuove collezioni sposa. Con il Tadio del Nastro si sono spalancate le porte dell'attivissimo Sposi in Love 2016, la sesta fiera dei servizi per il matrimonio organizzata da Eurofiere e di Alessandro Lanzafame. L'esposizione torna al centro Ulisse ma la location è del tutto rinnovata. Spazi più ampi e funzionali accolgono i futuri sposi. Tre padiglioni tutti da scoprire, la galleria dei sogni e facilità di accesso grazie al parcheggio multipiano. Tante le chicche dell'edizione appena inaugurata che si concentra su un unico weekend con un giorno in più. Abbiamo una soddisfazione importante perché comunque la fiera si è incrementata del 30% del numero degli espositori e questo è importante, è un settore molto importante, quello del mercato del matrimonio. In linea generale che non sta risentendo assolutamente della crisi, anzi sta sempre più dando risultati importanti all'indotto del matrimonio. Presente al taglio del nastro inaugurale anche il senatore Antonio Scavone. Mi congratulo molto con Lanzafame, con Alessandro che è la sua sesta edizione perché in un momento di difficoltà imprenditori coraggiosi hanno il piacere di mettere insieme un mondo che può essere il volano del nostro sviluppo. Ad impreziosire l'evento la presenza di esperti del settore tra cui Simona Polli, editrice della rivista nazionale White Sposa. White Sposa è una rivista nazionale, decidiamo di essere partner solo di determinate manifestazioni e questa è una di quelle perché crediamo nella passione, nel saper fare, nell'essere veramente appassionati a questo mondo. Tocco Glamour per il giorno del sì con lo stilista Gino Signore di Maison Signore, l'azienda leader presente negli showroom di tutta Italia. L'artista non a caso presiede la giuria di esperti che dovrà premiare uno dei giovani dell'Accademia Euro-Mediterranea partecipanti al concorso alla ricerca dell'abito perfetto. La Sicilia, Catania, l'amiamo in modo particolare e perché no questo nuovo progetto che stiamo portando avanti, noi partendo da Napoli con questi giovani stilisti, quindi un po' la ricerca di nuovi talenti, la selezione di persone che vogliono entrare in questo mondo, perché no? Diamo l'opportunità un po' a tutti. Tante le sorprese, l'organizzazione tende una mano in più alle coppie con inviti e omaggio distribuiti sul sito internet e dando la possibilità di vincere un matrimonio. Per partecipare basta compilare il coupon e stuzzicare la fortuna. Esposizione delle migliori aziende ma anche eventi nell'evento. Sabato sera la Notte Bianca è ribattezzata Notte delle Sfilate per conoscere in passerella. Le nuove collezioni sposa 2016-2017. E' tutto, ci fermiamo qui per questa edizione. Prima di chiudere però vi ricordo che ora TG è presente anche sul sito internet www.reitv.it e sul canale YouTube. Grazie di averci seguiti, adesso come sempre le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da... Il Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la Biblioteca Zelantea. Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo. Apertura Laboratorio Prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro Analisi Saem. Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 11 novembre. Cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Mari calmi, venti moderati. Le temperature nell'isola oscilleranno da 22 a 14 gradi. A Catania e Provincia 22 gradi la massima, 13 la minima. Il meteo è offerto da... Il Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la Biblioteca Zelantea. Centro Analisi Saem del Dottor Antonino Di Carlo. Apertura Laboratorio Prelievi tutti i giorni dalle ore 6. Incluso il sabato. Centro Analisi Saem. Via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Una WrocITIeh Live. Una WrocITIh digital c'è la拜. Infilato Anilica instance Da F IM 6 k. Il Centro Analisi Saem. Il Centro Salmi. Grazie a tutti.